A vent'anni avendo un peso forma e mi piaceva molto vestirmi alla moda, infatti potevo permettermi bikini, miligonne e vestiti stretti. Dall'esperienza di 31 anni dei numeri 1 in Italia nella perdita di peso, DCD studi estetici di Frascati in Via Rapini 12. Non rimandare un appuntamento fondamentale per la tua salute e la tua felicità. A un certo punto la mia vita è cambiata, ho conosciuto mio marito con il quale ho avuto due splendide bambine, ma purtroppo come succede a tutte le donne dopo due gravidanze il peso si accumula. La cronoalimentazione dissociata normocalorica consente con l'introduzione di 1600-1800 calorie e con una alimentazione variata perfettamente bilanciata nei suoi componenti di perdere peso gradualmente e costantemente. senza che si evidenzino gli effetti collaterali delle normali diete ipocaloriche. Io mi ricordo che con 20 chili più non mi sentevo più bene con me stessa. Ho provato le cosiddette diete fai da te non avendo risultato. La mattina mi pesavo ma l'ago della bilancia rimaneva sempre fermo. In 31 anni di attività abbiamo avuto persone che hanno perso fino a 60 chili di peso. Se anche tu vuoi cambiare la tua vita vieni alla DCD studi estetici di Frascati in Via Rapini 12. Qui alla DCD ve lo dico questo senza alcun dubbio. Uno non ho sofferto la fame, due non ho assunto farmaci, tre ho fatto tutto questo senza stress. Ecco in sintesi i motivi per cui oggi scegliere DCD rappresenta la soluzione migliore per chi deve perdere peso. 1. Controllo medico costante per tutta la durata dei trattamenti. 2. 31 anni di esperienza e di permanenza sul mercato. 3. Più di 2 milioni e mezzo di sedute effettuate. 4. Possibilità di finanziamento con pagamento della prima rata dopo 90 giorni o di finanziamento a tasso 0 per 18 rate con prima rata dopo 30 giorni. 5. Totale assenza di impiego di farmaci dimagranti o anoressizzanti. 6. Gradevolezza del trattamento. 7. Assenza di fatica, di stress e di effetti collaterali. 8. Quattro relazioni cliniche effettuate da prestigiose università come Roma e Pescara. 9. Facilità dei finanziamenti easy che vengono erogati anche a studentesse e casalinghe senza busta Paga. Con la semplice esibizione del codice fiscale e di un numero telefonico. 10. Altissima percentuale di casi che hanno recuperato il peso ideale. 97,5% per chi ha effettuato 31 sedute. Quando sono venuta qui pesavo 78 kg. Nell'arco di due mesi e mezzo facendo un ciclo di 25 sedute ho perso 15 kg. Ad oggi peso 63 kg. DCD Studi Estetici di Frascati. Viene incontro alle tue esigenze con la possibilità di finanziamento a tasso zero anche per studentesse e casalinghe senza busta Paga. Chiama subito la DCD Studi Estetici di Frascati allo 06 9401 5074. Adesso parliamo della mia taglia. Da una 48 sono ritornata a una 42 perdendo tre taglie. Vieni alla DCD Studi Estetici di Frascati in Via Rapini 12. Telefono 06 9401 5074. Regalati una nuova vita. Ad oggi il mio look è cambiato. Infatti ho potuto rimettermi le mie decone e i pantaloni stretti. E voi non ci credete? Mio marito mi ha anche riportato in discoteca. Due sedute omaggio. Non perdere la nostra offerta. Chiama subito la DCD Studi Estetici di Frascati allo 06 9401 5074. O registrati al nostro sito www.dcdestetica.it. Lo posso dire con il cuore. Grazie DCD di Frascati. Non aspettare oltre per dire basta ai chili di troppo e ritornare in forma. Vieni alla DCD Studi Estetici di Frascati in Via Rapini 12. Telefono 06 9401 5074. E se chiami subito o ti registri nel nostro sito www.dcdestetica.it potrai ottenere due sedute omaggio. DCD Studi Estetici Frascati ti cambia la linea e... ti cambia la vita!